Signori, che dire, siamo ormai alla frutta, ma noi la frutta non ce la mangiamo, noi la frutta non ce la tagliamo, noi non la sbucciamo, perché la frutta ce la devono tagliare qua sul ring, perché adesso i protagonisti della serata sono due, ma ce n'è uno in particolare signori, che non posso presentarvelo così, io a questo punto mi svesto, mi spoglio, mi tolgo la giacca e chiedo alla ringherla di prenderla questa giacca, perché è arrivato il momento di presentarvi l'eroe, e voi pubblico so che siete stanchi, so che non ce la fate più, so che è tardi, ma domani è domenica e non avete scuse per fare quest'ultimo applauso, facciamolo! E invece no, invece no, io ho mentito, non è il vostro ultimo applauso, perché il più grande applauso adesso lo faremo al nostro atleta, ma non lo presento subito, presentiamo prima con un applauso, con le votazioni leali nei confronti di un team che è stato ospitato qui a San Severo, dimostriamo quanto siamo caldi, dimostriamo quanto ci teniamo allo sport, quanto siamo leali e quindi facciamo un applauso all'angolo rosso per lo sfinante, per il titolo mondiale di K1 qui a San Severo, un team francese, una sfida Italia contro i nostri cugini, contro la Francia, una sfida interminabile che cadenzà ogni competizione, lo so che parlo troppo, lo so che parlo troppo, lo so che parlo troppo, ma vi voglio sentire e quindi adesso un applauso agli ospiti, grande onore per il team Nasser Qasem, per Saderi e Seno all'angolo rosso, un applauso, facciamolo! Bravo ragazzo, grande atleta, d'altronde siamo qui per il titolo mondiale, ma adesso signori è arrivato il momento di rendere voi protagonisti e per esserlo dovete usare queste mani, dovete usare, bravi, bravi, continuate, caricate, musica, 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 musica! Signori, all'angolo blu, con il peso di 67 kg, l'italiano, il Sanseverese, io dirò il cognome e voi direte il nome, signori, all'angolo blu, il nostro mitico, inossidabile, Ricciardi Luigi! è qui, è qui, è qui, finalmente cavalca sulle onde del vostro applauso che continua, 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 vi voglio sentire, vi voglio sentire, vi voglio sentire! Luigi, siamo qui e tu sarai qui e ci farei sognare del team Berardi, signori! E' lui! Luigi! Ricciardi! Pubblico! Siamo arrivati al momento clou! Nassim Caser, per la Francia, contro il team Berardi per l'Italia, due grandi atleti, un unico titolo, il titolo mondiale di K1, WFC! Grazie! 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 Incontro sui Ferram per tre minuti! Sì, lì c'è. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Termina. Grazie a tutti. 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 Luigi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.